Buongiorno a tutti, siamo qui nell'ultima giornata del nostro viaggio sull'iniziativa Creatori di Storie, Creatori di Speranze, è una giornata anche questa ricca come le altre. Questa giornata è totalmente costruita insieme con Roberto Tarasco, Gabriele Vacis e tante altre persone che poi verranno presentate durante la mattinata. Anche sia Roberto Camalinghi e Daniela Appoggiali che abbiamo condotto queste giornate. Buon viaggio sulla creatività. Passo la parola. Allora, intervengo io prima di tutto. Detto i tempi della mattinata, buongiorno a tutti. Allora, ci saranno quattro dialoghi questa mattina. Il primo sarà tra Gabriele e Alessandro D'Avenia. Una quarantina di minuti all'incirca, fino alle 10.45. Alle 10.45 ci sarà un nuovo ospite, un Genius Loci, direi perché è Marco Martinelli del Teatro delle Albe ed è di Ravenna, naturalmente. Fino alle 11.30, se Vacis e Marco staranno negli orari che abbiamo pensato. Alle 11.30 arriverà Chiara Guidi, che è un altro Genius Loci, nel senso che anche lei è romagnola, di Cesena e della Societas Rappello Sanzio. E infine, alle 12.15, Vacis dialogherà con Mauro Berruto, che per chi non lo conosce, ricordiamo che è stato ad esempio allenatore della Nazionale di Pallavolo, fortunato allenatore della Nazionale di Pallavolo, tra le altre cose. Poi è uno dei direttori della Holden e tantissime cose. Abbiamo preparato anche dei video, che dovrebbero essere degli intermezzi, che danno modo anche di ricaricare, eccetera. Vediamo se riusciremo poi a farli funzionare strada facendo, perché la tecnologia di Zoom non sempre è perfettissima. e quindi passo la parola a Gabriele Bracis. Buongiorno. Prima di tutto vorrei ringraziare Animazione Sociale per averci offerto questa opportunità di incontro e di dialogo. Animazione Sociale è una rivista che, direi, sopperisce ad una carenza ormai sempre più diffusa, che è quella della riflessione sullo stato sociale. Per questo, oggi ho invitato una serie di persone con cui abbiamo, in qualche caso, condiviso dei tratti di percorso. Il primo è Alessandro D'Avenia, vedo che hai già collegato anche Marco Martinelli, che saluto, con cui parleremo dopo. E intanto, grazie Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Alessandro D'Avenia è scrittore e insegnante, coniuga da sempre queste due attività, e ultimamente direi anche narratore, perché da qualche anno i suoi libri diventano spettacoli che girano per i teatri e incontrano una grande quantità, soprattutto di giovani. Questo lavoro che abbiamo fatto ultimamente, sul suo ultimo libro, il terzo che facciamo insieme, quando abbiamo incominciato qualche anno fa, con L'arte di essere fragili, il suo libro su Leopardi, la cosa che mi ha molto colpito da subito, quando abbiamo debuttato al Teatro Carcano, è vedere un teatro grande, come il Teatro Carcano, che io avevo già frequentato, nel senso che i miei spettacoli erano già stati presentati al Teatro Carcano, e diciamo che l'età media del pubblico era sempre piuttosto alta, anche rispetto al pubblico che normalmente frequentava i miei spettacoli. Lì si alzava un po'. E vedere quella sera il debutto dell'arte di essere fragili al Teatro Carcano, gremitissimo di ragazzi, di un pubblico assolutamente imprevedibile per quel luogo, mi aveva molto colpito. Che cosa voglio dire perché vi racconto tutto questo? Perché evidentemente Alessandro D'Avenia riesce a parlare con gli adolescenti, riesce a parlare con i giovani, che è una cosa notevole e che credo abbia molto a che fare con quello di cui ci si sta occupando in questi giorni. Il suo ultimo libro si intitola L'Appello e racconta di un insegnante, di un professore e del suo rapporto con la sua classe, che è una classe un po' particolare. Però vorrei passare la parola ad Alessandro per raccontarci di questo suo ultimo lavoro e anche, ovviamente, a parte che si intuirà subito il nesso con quello di cui state parlando in questi giorni, cioè la coniugazione tra l'arte, la creatività e poi l'educazione, per esempio, in questo caso. Ecco, quindi ti chiederei, Alessandro, di cominciare raccontandoci il tuo libro e poi anche la messa in scena di questo libro. Certo. Tanto buongiorno a tutti. Gabriele, grazie dell'invito e delle parole che hai già speso per me. Allora, la cosa da cui vorrei partire, anche perché questo è il tema di queste giornate di incontri, visto che sono un archeologo delle parole, amo sempre andare un po' a caccia dietro le quinte, perché le parole purtroppo oggi sono molto stanche, parole che utilizziamo tutti i giorni e diamo per scontate, non significano più nulla, quando la parola invece è l'unica cosa capace di dare energia alle anime, quindi veramente poi ad animare la società. L'altro giorno chiedevo a mia nipote di tre anni durante la cena, ero a tavola con mia sorella, mio cognato, e d'amblè le ho chiesto, Beatrice, ma qual è il segreto della felicità? Naturalmente non mi aspettavo nessuna risposta sensata da mia nipote di tre anni, ma lei a bruciapello ha risposto l'anima. Io non so che cosa mia nipote sappia dell'anima e dove abbia sentito questa parola, allora poi ho approfondito e le ho chiesto, senti, ma che vuol dire l'anima? E lei ha detto l'anima che balla. Ecco, allora mi sembra che qui noi dobbiamo recuperare, visto che ce l'avete nel vostro DNA, questo tema dell'animazione sociale, e farei rispondere appunto mia nipote, è l'anima che balla. Perché è l'anima che balla? Perché creare e crescere, e ritorno al discorso dell'archeologia delle parole, hanno la stessa radice. Cioè noi ci siamo dimenticati che creare e crescere hanno la stessa origine, non si cresce se non si crea, e non si crea se non si cresce. Nel momento in cui l'uomo smette di creare, che è la sua vera e propria vocazione, quando si legge, credenti o meno credenti che si sia, nella Bibbia, che l'uomo è stato creato a immagine di Dio, gli si sta dicendo, prima di qualsiasi altra cosa, che l'uomo è un creatore. Quando l'uomo smette di creare, smette anche di crescere. Smette anche di crescere. E allora, che cosa succede in questo libro di cui Gabriele ha accennato, e di cui abbiamo provato a mettere in scena, appunto, il racconto teatrale, nonostante i teatri chiusi. La cosa bella è che abbiamo aperto più di quanto potessimo immaginare. Forse i teatri, come ci diciamo con Gabriele, io lo dico per le scuole, erano chiusi anche prima. Forse le scuole erano chiuse anche prima. E questo tempo di chiusura forzata ci sta dicendo che forse erano chiuse anche prima. Cosa ci è rimasto di questi ragazzi chiusi a casa in DAD? Pensateci, il volto e la voce. Cioè il luogo in cui anche metaforicamente noi diciamo compiersi l'unicità dell'essere umano. Trovare la propria voce, avere un volto, essere riconosciuti in un volto. Diceva un filosofo francese che il volto è il luogo dell'aldilà, è il luogo sacro, il luogo in cui si compie il destino dell'uomo. E allora in questo libro, che si intitola appunto L'Appello, che cosa accade? Che entra in classe il primo giorno di scuola, in questa quinta D, D come disperazione, in cui sono rimasti in dieci perché sono i reietti, una specie di ghetto, di zona franca in cui hanno messo quelli che hanno il virus e che non devono contagiare altri e entra un professore con gli occhiali da sole all'apparenza molto affascinante, ma non li guarda neanche in faccia. Quando suona la campanella, lui non ha ancora detto neanche una parola, non ha sollevato lo sguardo dal registro. Si toglie gli occhiali e si scopre che questo professore è cieco. Un professore cieco è la benedizione di un alunno che vuole finalmente fare il cavolo che gli pare in classe, copiare, suggerire senza essere scoperto. E invece succede il miracolo, proprio perché lui torna a insegnare dopo essere diventato cieco a causa di una malattia improvvisa. L'ispirazione del libro mi viene da un articolo che ho letto qualche annetto fa di un professore che appunto per una malattia mitocondriale di cui adesso ancora non si conoscono le cure è diventato cieco nel giro di poco tempo. Nel mio romanzo questo professore smette di insegnare e dopo cinque anni dall'inizio della cecità si rimette in gioco perché vuole capire non solo se può ancora insegnare ma se ancora vivo lui, in fondo è questione di vita o di morte. Che cosa succede? Che è costretto a fare l'appello in un modo unico che è quello che utilizzano i ciechi per entrare in contatto con il mondo. La voce e il volto. Cioè chiede a questi dieci ragazzi di raccontare un pezzettino della loro storia scegliendo quello che ritengono più importante per consegnare la loro vita a uno che non li può vedere. E alla fine di ogni spezzone della loro vita il romanzo va avanti di spezzone in spezzone con questi appelli che si susseguono per un anno e l'anno della maturità mette le mani sul volto di questi ragazzi. Cioè in qualche maniera prende in consegna la loro vita tutta intera attraverso la loro voce e il loro volto. Perché a me ha colpito tanto questo articolo tanto da diventare poi un personaggio che batteva talmente forte dentro di me che ci ho dovuto scrivere un romanzo? Perché secondo me siamo in un momento storico in cui siamo dei vedenti non guardanti anzi siamo degli ipervedenti noi vediamo tutto attraverso una società basata sull'immagine su un'immagine spesso fantasmatica contraffatta che manipola i nostri desideri e proprio per questo non riusciamo più a guardare nulla a tenere fisso lo sguardo su nulla cosa che comporta un rapporto con le cose distorto, manipolativo e ce le fa perdere cioè non dare alle cose il tempo per essere è ciò che non consente loro di crescere e siccome crescere e creare hanno la stessa radice se non si dà lo spazio a qualcuno di crescere non gli si dà neanche lo spazio di creare e viceversa questi ragazzi verranno trasformati proprio dal professore da cui pensavano di poter finalmente godere un'assoluta libertà perché? Perché quel rapporto si baserà sulla totale fiducia loro dovranno raccontare di se stessi quello che ritengono necessario e affidare persino i loro volti cioè i loro corpi a quelle mani questo comporta dei rischi fortissimi perché in fondo stiamo parlando dell'unica cosa che fa crescere fa creare le persone che è l'amore hai perso la voce Gabriele come sai io posso andare avanti come sai io posso andare avanti a oltranza no 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 scusami ho dimenticato di riaccendere il microfono che cosa è successo quindi adesso Alessandro in questo anno che abbiamo vissuto in cui ci è stata preclusa praticamente questa presenza cioè il tuo professore ovviamente come se la sarebbe cavata in dad senza poter toccare il volto dei suoi allievi allora il punto è proprio questo e poi anche il punto di contatto che noi abbiamo trovato nella nostra amicizia e nel nostro modo di fare teatro scuola metto le cose ormai insieme perché per me sono diventate inscindibili pensare di avere dicevi tu un teatro gremito la sera di ragazzi con un professore che parla di leopardi cioè nell'immaginario collettivo diciamo un concentrato di sfortuna cosmica significa che di scuola non solo c'è bisogno ma che i ragazzi la vanno a cercare fuori da scuola e questo qualche cosa qualche cosa significa allora la dad che cosa che cosa ha messo in evidenza finalmente ha ridato loro il potere di dire chiaro che cosa io non sono a tua disposizione perché non lo sono mai stato cioè quello che dicevo prima l'essere ridotti a un volto e a una voce di cui non ci si è presi cura prima di entrare in dad diventa per loro l'occasione di dire io non sono mai stato tuo non sono mai stato affidato a te quindi sai che c'è ora mi riprendo questo volto e questa voce e tengo la telecamera spenta e tengo il microfono spento quante scuole hanno dovuto mettere nel loro nuovo regolamento che chi non tiene la telecamera accesa riceve una nota pensa Gabriele riceve una nota cioè quasi l'essere costretti a mostrarsi come se prima il mostrarsi fosse una cosa data per scontata e quando noi diamo per scontato qualcosa tu lo sai benissimo che fai un teatro tutto basato sulla presenza quando noi diamo per scontato qualcosa significa che l'abbiamo già persa l'abbiamo già persa io ho intitolato l'appello questo libro perché ritengo che il momento più importante della giornata scolastica sia l'appello e se ci pensiamo è il momento più marginale della giornata scolastica perché serve per una burocrazia che deve controllare se tu ci sei o non ci sei e poi l'indomani portare quella giustifica che giustifica il fatto che tu non fossi presente ma tu mi devi giustificare quando sei presente che sei presente cioè giustificare in che senso rendere giustizia la tua presenza il primo che ti deve rendere giustizia sono io che cosa fanno gli artisti i creatori rendono giustizia un pezzo di realtà che non si può manipolare la grandezza dell'arte qual è lasciare essere le cose e non averle più disponibili quando il nostro Cézanne vede una mela non è che pensa a mangiarsela o a farci una torta dice io con questa stupirò il mondo e chi guarda le mele di Cézanne dice questo è un posto in cui vale la pena abitare perché quel pittore è riuscito a dare giustizia cioè ciò che gli spetta persino a una mela e lui lo diceva io con una mela stupirò il mondo cioè restituirò al mondo quello sguardo di stupore da cui inizia la conoscenza come ci hanno insegnato i greci allora questo periodo di Dado che cosa ci ha detto ci ha detto una cosa che se la relazione era aperta prima il canale era aperto prima cioè i ragazzi si sentivano dentro uno spazio in cui potevano crescere perché potevano creare la Dado ha semplicemente continuato con altri mezzi e ispirato la creatività di tantissimi insegnanti anche quelli che con la tecnologia non erano abili perché perché lì dove la relazione è aperta il mezzo il mezzo viene piegato dal messaggio McLuhan diceva il mezzo è il messaggio ma a scuola il messaggio è il mezzo la parola è il mezzo perché la parola è il luogo in cui si verifica la relazione questa chiamata essere presenti e si parte dal nome del ragazzo allora in Dado per esempio io non ho mai fatto tanti colloqui personali con i miei alunni quanti ne avessi fatti in presenza perché? perché dovevo tenere alto il livello della relazione così come ce l'avevo in presenza ma è chiaro che in presenza è dato dal fatto che ho i corpi davanti a distanza io devo ricreare quella situazione in una tu per tu che serve ad accorciare la distanza quindi la didattica a distanza è andrebbe riformulata in termini di didattica in presenza attraverso quel mezzo come mi faccio io presente attraverso questo mezzo è altro esempio parlavamo di voce l'importanza della voce noi ci siamo letti l'anno scorso con i miei ragazzi di prima date le condizioni in cui eravamo l'odissea integralmente perché? perché l'unica cosa che potevamo fare era mettere il testo al centro e far sì che il testo coinvolgesse tutti in un momento in cui tu sei nella tua cameretta se io ti invito ad essere Penelope Telemaco Ulisse e tu devi fare quella parte e ritorniamo al discorso teatrale che cosa accade? che tu diventi quella parte e vedere questi francobolli e sentire queste voci e ricreare l'odissea in questo modo con la dad è stato un esperimento grandioso quasi teatrale devo dire perché? perché c'erano i volti e c'erano le voci che in fondo poi è l'esperienza del teatro delle origini in cui c'erano addirittura solo tre attori la maschera e tu non vedevi neanche il volto sentivi questa voce potente per chiudere lì dove invece la relazione prima non era aperta la dad è stata semplicemente il necrologio di qualche cosa che era già Moribondo e allora ecco la presa di posizione dei ragazzi di fronte a dire io spengo ammesso che i ragazzi fossero raggiungibili attraverso strumenti che purtroppo non sono a disposizione di tutti e che nella nostra scuola italiana sono stati pensati come la panacea di questo di questo tempo questo aprirebbe un altro discorso ma appunto anche qui le soluzioni politiche che vengono date spesso non sono soluzioni creative cioè non sono soluzioni dettate da un impulso di crescita io ho una collega che insegna in Svizzera non hanno chiuso la scuola un solo giorno un solo giorno dice siamo soffocati dalle procedure perché poi immaginati gli svizzeri ma non hanno chiuso la scuola un solo giorno noi siamo ancora lì che discutiamo e poi esce sul Corriere questa settimana uno studio su 7 milioni virgola 3 studenti che ci dice che l'apertura delle scuole non ha inciso sulla curva della pandemia noi due domande ce le dobbiamo fare perché perché appunto a noi non so quanto interessasse prima la presenza di questi ragazzi e quindi la prima soluzione è spegnere chiudere noi siamo oggi nella giornata mondiale del teatro e anche i teatri sono chiusi e si sono spese tantissime parole sul fatto che anche la frequentazione dei teatri sembra che alla fine non abbia portato tutta questa tutto questo propagare dell'epidemia pare che altri luoghi siano molto più pericolosi eccetera quindi questo è abbastanza acquisito ormai è una cosa che si ripete si sente ripetere molto nel dibattito pubblico ma sembra non trovare particolare applicazione poi quindi visto che sappiamo che è così che cosa succede poi non succede quasi niente e allora volevo spostarlo proporti proprio questo questo percorso ad ascoltare te beh questo momento di stasi avrebbe potuto essere un'occasione proprio per ripensare no la scuola per ripensare che cosa significa essere presenti visto che prima non se ne parlava ma quando mai si usava l'espressione essere presenti prima di questa pandemia no fortunatamente no nella sfortuna generale con tutti i morti che abbiamo avuto si è ricominciato a parlare e a cercare di capire che cosa significa essere essere presenti però nel dibattito pubblico per esempio quest'estate si è moltissimo ci si è attardati tantissimo a discutere dei banchi a rotelle di quanto costavano i banchi a rotelle di quali aziende avrebbero potuto produrre i banchi a rotelle in tempo utile per l'inizio della scuola cioè tutta l'attenzione si è incentrata sugli aspetti organizzativi come del resto se tu guardi anche tutta l'attenzione si concentra sugli aspetti organizzativi parlando proprio delle vaccinazioni cioè di tutto il resto il dibattito pubblico si diletta tantissimo di entrare nello specifico delle organizzazioni eccetera ma c'è una sulla questione dei banchi c'è un discorso a monte che forse bisognerebbe fare cioè lo dicevamo anche ieri in un incontro che abbiamo fatto con Alessandro da Maria Montessori a Loris Malaguzzi a Don Milane e credo che si siano rivoltati nella tomba nel momento in cui si è annunciato l'arrivo di milioni di nuovi banchi quando ormai il pensiero pedagogico diciamo che è un secolo che si augura che i banchi vengano espulsi dalla scuola allora come come entriamo come risolviamo risolviamo è una parola grossa come riusciamo a dire qualche cosa rispetto a questa discrasia rispetto a questa distanza proprio allora io credo che su questo Gabriele il tema sia quello che poi tu metti in atto nel modo di fare teatro della schiera passare da uno sguardo che oggettiva le persone a uno sguardo che le soggettiva se esistessero questi due verbi che ho utilizzato cioè non più guardarli come oggetto ma come soggetto di possibilità quindi sostanzialmente passare da un manipolare ad un ascoltare che vuol dire questo noi oggi abbiamo purtroppo un rapporto con il tempo distorto da lì secondo me nasce tutto cioè noi non sappiamo più entrare in risonanza con le cose perché non le lasciamo essere cioè non diamo tempo al tempo e perché abbiamo distorto il tempo e abbiamo bisogno che il tempo non si prenda più il tempo di cui ha bisogno pensa un po' che leggevo questa notizia che al bambin Gesù di Roma stanno arrivando tantissimi casi di bambine sette otto anni che in questo periodo di lockdown sono entrate in adolescenza prepuberale perché stando ferme a casa e guardando continuamente schermi stimoli di tutti i tipi attraverso gli schermi mangiando e rimanendo statici il corpo il sistema endocrino dice è venuto il momento di trasformarsi perché in cameri cibo stai fermo e questa energia da qualche parte va impegnata quindi il corpo che dice a un certo punto è venuto il momento di andare in esplorazione del mondo e diventare qualcos'altro no? E questo perché perché lo lo cito perché appunto secondo me noi abbiamo perso un rapporto vero col tempo e abbiamo trasformato invece l'interpretazione dell'uomo in una macchina perché perché viviamo nella società che idolatra il progresso cioè la modernità che grazie a Dio è stata ha avuto questo impulso grandioso nella cultura tecnica che cosa ha fatto ha trasformato il nostro immaginario in un immaginario in cui la felicità è sempre qualche cosa da venire ed è qualche cosa verso cui bisogna correre cioè io non posso essere felice adesso io non posso essere presente adesso perché la felicità è qualche cosa che deve sempre venire e basta per rendersi conto di questo vedere come abbiamo trasformato il concetto di nuovo in concetto di recente cioè io non compro la cosa nuova io compro la cosa più recente perché il nuovo è ciò che ha da dare sempre qualche cosa di più ad ogni incontro Dante è nuovo Shakespeare è nuovo Beethoven è nuovo l'iPhone è recente e nel momento stesso in cui io dico è recente sto dicendo che è già vecchio perché l'ultimo modello è quello che verrà sostituito e io lo sostituirò non tanto perché il mio precedente è diventato non funziona più ma perché non è più recente allora questa ossessione di accelerazione del tempo che cosa ci porta a fare ad avere un rapporto con le cose di manipolazione perché io devo ottenere dalle cose dalle persone degli obiettivi e quindi li manipolo li uso li cannibalizzo se invece noi ritorniamo a un rapporto con le cose con le persone in cui diamo loro il tempo di essere nel tempo che è dato loro per essere noi restituiamo alle cose alle persone e a noi stessi la possibilità di goderci la vita perché la smettiamo di manipolare e sedurre cioè trasformare l'altro in oggetto per me e gli ridiamo la dignità di soggetto per il mondo cioè luogo necessario a un compimento che è arricchimento per tutta la società voi parlate appunto di animazione sociale ma lì dove il singolo non è soggetto di possibilità ma oggetto di manipolazione questa animazione diventa impossibile allora perché si parla di banchi e si parla di dotare le scuole di connessioni eccetera eccetera ma perché appunto il tema è oggettuale cioè non si ragiona in termini di che cosa bisogna la persona ma in termini di che cosa ci dobbiamo dotare per poter fare scuola quindi ci concentriamo sugli oggetti e non sui soggetti le scuole sono chiuse i banchi non si sa che fine abbiano fatto c'era qualche tempo fa un libro che si intitolava mi sembra il bambino competente non mi ricordo qualcosa del genere comunque l'autore utilizzava un'immagine molto bella noi viviamo in una società in cui mettiamo nello zaino di un bambino talmente tanti oggetti che potrebbero servirgli per la sua salita che poi quando deve cominciare la salita lo zaino è talmente pesante che non riesce a muoversi mentre gli dobbiamo raccontare perché deve salire perché vale la pena fare quella fatica arrivare a vedere il panorama allora dobbiamo ribaltare la situazione e dire di che desiderio è portatore il soggetto quale novità è venuto a portare come diceva Anne Arendt ogni nuovo nato è fatto per portare qualcosa di nuovo creare qualcosa di nuovo nel mondo se io parto da questa prospettiva cambia tutto quando tu fai il teatro della schiera e dici ai ragazzi bene ragazzi cominciate a camminare io quando l'ho visto la prima volta ho detto ma che è sta ma che cos'è sta cosa è riprendere posizione sul mondo cioè dire ma io come cammino su questa terra come cammino su questa terra allora lì sì che intercettiamo ascoltando le qualità specifiche di ogni essere umano e la classe la disporrò sulla base di quello di cui ho bisogno il problema non è se in classe ci sono i banchi o meno ma che topografia devo dare alla classe per ottenere quello che voglio ottenere dalle relazioni con loro per cui se leggo l'odissea metto i banchi in cerchio se devo fare un'altra attività i banchi li tolgo se devo fare un compito i banchi li rimetto e li metto in fila ma pensare che all'inizio del terzo millennio noi teniamo i corpi degli adolescenti in fila bloccati dietro un banco ma questo poteva andare bene in una società contadina che doveva essere educata a stare dietro una scrivania che è la scuola di fine ottocento basta basta io dico basta la scuola catena di montaggio in cui diamo a tutti la stessa cosa pensando che questo poi li renderà prodotti utili utili alla società quindi oggetti e andiamo a una scuola bottega in cui il maestro quello che fai a dare a ciascuno i fondamenti dell'arte che gli servono ma aiuta ciascuno a trovare il suo stile altrimenti quello che succede è che questi ragazzi sono dominati dall'ansia l'ansia è diventato la regola il modo di e chi ha ansia ha perso già il desiderio ha perso già il desiderio perché l'ansia che cos'è è la paura senza oggetto e quindi io sono paralizzato nel mio stesso desiderio mettere la paura è una paura la paura ha un oggetto e quindi che succede che io sì è giusto che abbia paura e affronto la cosa che mi fa paura l'ansia che cosa ti fa fare ti fa affrontare la paura e omette completamente ciò verso cui stai andando ma questo dipende da noi adulti cioè noi che che desiderio testimoniamo a questi ragazzi se il nostro desiderio è orientato a un banco noi stiamo dicendo loro che cosa che le loro vite sono meno importanti di questo di un banco sì è vero adesso stagli dicendo che il i ragazzi sono indirizzati all'ansia no poi però appena gli dai un un minimo di occasione e ti rendi conto che rinunciano immediatamente all'ansia ed è straordinario poi parleremo con Marco Martinelli che non so se conosce il suo lavoro ma è fantastico da questo punto di vista io l'ho visto lavorare quando dirigevo i teatri di Reggio Emilia e l'ho chiamato per fare la sua non scuola un pezzetto della sua non scuola che credo sia una cosa che è un titolo che già ti piace molto lo intuisco e lì era evidente appena gli dai un'occasione questi poi ne approfittano alla grande e in questi giorni sto facendo una serie di video colloqui i video colloqui li chiamo video colloqui e non interviste perché hanno una differenza fondamentale dall'intervista cioè io faccio domande che richiedono come risposta non opinioni ma storie allora non chiedo genericamente come cosa pensi della dad perché riceverei come risposta luoghi comuni ma gli chiedo cosa succede quando ti svegli la mattina che cosa è diverso adesso raccontami esattamente a che ora ti alzi adesso a che ora ti alzavi prima e tutto diventa molto più concreto e quello che mi ha molto colpito ne ho fatti già parecchi di questi video colloqui quello che mi colpisce che mi ha colpito di più parlando con una grande quantità di ragazzi delle scuole superiori quindi tra 15 16 17 18 anni è che tutta la tutta l'enfasi che si mette e tutto tutta l'esagerazione che sento in questi giorni in tv sui giornali dai grandi commentatori mamma mia stiamo perdendo una generazione una generazione perduta e quello che mi dicono i ragazzi intanto quando gli faccio vedere queste opinioni esagerate enfatiche si arrabbiano dici ma come ma siamo perduti ma dai e poi è straordinario come ti dicono certo che ci sarebbe che avremmo preferito potercene andare in giro c'è uno che dice ma a scuola ci vai per toccare i tuoi compagni quindi hanno una percezione molto precisa di tutto questo e invece di dove nasce questa di nuovo questo scarto un po' ce l'hai già hai già cominciato a spiegartelo però quando quando grandi commentatori filosofi parlano degli adolescenti ne parlano o in termini di generazione perduta perché sono sdraiati e non si alzano dal letto o in termini di generazione perduta perché adesso non gli abbiamo dato quello che avremmo dovuto dargli cioè e poi tu parli con i ragazzi e viene fuori una realtà completamente completamente diversa cioè un'idea del mondo che forse non riusciamo proprio non riusciamo proprio a leggere non riusciamo però vorrei dire non riescono allora intanto parto dalla provocazione che hai usato all'inizio della non scuola il termine scuola viene dal greco scolè e voleva dire tempo libero noi oggi invece la scuola la chiamiamo la scuola dell'obbligo quindi in occidente qualche cosa è andato storto cioè il dover dire che scuola e non scuola mi fa mi fa paura significa che abbiamo forse abbiamo bisogno di recuperare questa idea di scuola come tempo libero e secondo me la scuola come tempo libero nasce nel momento in cui nel dialogo platonico omonimo Socrate parla con Alcibiade Alcibiade che è uno di questi ragazzi con cui tu fai i videocolloqui lui faceva le chiacchierate per le strade di Atene e Alcibiade si lamenta del fatto che Socrate è fissato col fatto che bisogna conoscere se stessi e gli dice vabbè Socrate tu dici questa cosa però è difficile è difficile cioè sostanzialmente Socrate diceva bisogna essere presenti bisogna essere presenti e Alcibiade dice Socrate è una fatica lasciaci un po' in pace e Socrate risponde hai ragione Alcibiade è difficile ma se noi non sapremo conoscere noi stessi non sapremo neanche come prenderci cura di noi stessi cioè in Occidente la vocazione scolastica nasce da questo dal sapere come cura è successo a un certo punto invece che noi abbiamo attuato un divorzio dal sapere come cura e tu che fai un teatro che è mirato alla cura questa cosa la sai benissimo cioè che cosa è successo a un certo punto nella nostra scuola con una certa impostazione che è nata con la modernità che c'è stato il divorzio fra istruire ed educare istruire a come fine farsi una cultura educare a come fine diventare liberi cioè autonomi prendere in carico la propria unicità a partire dai propri limiti perché è avvenuto questo perché si è creduto che bastasse istruire a volte lo senti dire ma noi dobbiamo istruirli non è compito nostro essere psicologi eccetera eccetera che è già un effetto di questa frattura è chiaro che tu non devi essere né lo psicologo né il padre né l'amicone né tutta una serie di figure che non sei chiamato ad essere ma il punto è che nel momento in cui tu dici che devi istruire e non educare hai già preso posizione cioè stai dicendo che loro sono un oggetto da riempire non un soggetto di possibilità educare rendere gli altri soggetti di possibilità cioè introdurli nella realtà cioè far sì che conoscano se stessi per prendersi cura di se stessi e del mondo perché chi impara a prendersi cura di se stesso poi si prende cura del mondo qui si gioca la partita allora il discorso ritorniamo appunto al tempo libero perché è scolè il tempo libero perché è quel momento in cui ci prendiamo il silenzio la solitudine ci allontaniamo da quello che tu chiami un dibattito pubblico ossessionato appunto dall'ansia le sigle dei telegiornali che sembrano delle sigle di film thriller o dell'orrore no cioè tutto è mirato a fare che cosa a tenerti sotto scacco a essere oggetto di una manipolazione invece noi siamo soggetti di possibilità è chiaro che nel mondo greco questo apparteneva a un'aristocrazia che poteva permettersi di vivere così e stiamo parlando di un mondo in cui c'era la schiavitù cioè allora noi invece abbiamo una possibilità interessantissima rendere democratico ciò che allora era aristocratico e questo richiede un gran lavoro sui maestri quando mi si dice e sì D'Avenia lei dice questa cosa però poi quando hai cento alunni come fai ma come fai allora c'è qualcuno che vuole mettersi a ripensare un sistema che era stato pensato per irregimentare le persone e alfabetizzarle e invece dare un sistema nuovo che rimetta quella che io chiamo scuola bottega la persona al centro per me per esempio la prima cosa da fare è non mettere i banchi ma mettere un unico tavolo ovale con al massimo una dozzina di posti in cui il sapere è al centro del tavolo ci si guarda in faccia perché all'asilo io giocavo con i miei amici e avevamo i tavoli circolari o a quadrato e guardavo loro in faccia e l'oggetto dell'apprendimento veniva messo dalla maestra al centro del tavolo perché quello è il senso cioè l'oggetto crea la relazione il luogo su cui tu e io ci incontriamo e la maestra quello che faceva era girare attorno a noi cioè indirizzava all'oggetto quando noi ci disperdevamo quello che che c'era da fare quel giorno allora qui la sfida la partita è questa noi creiamo sistemi che dovrebbero proteggere la vita a un certo punto questi sistemi diventano obsoleti e bisogna avere il coraggio di cambiarli tu lo stai facendo a teatro il tuo amico lo sta facendo con l'anno scuola io ci sto provando con i miei libri e con il lavoro che facciamo a teatro insieme sono dei tentativi però siamo in una cultura che fa una grandissima fatica ad accettare che cosa che le cose vanno cambiate perché perché questo la politica non interessa la politica diventata gestione del potere e se io rivoluziono una scuola io vado a toccare un milione di voti e un milione di voti non posso permettermi di perderli sono i voti degli insegnanti e qui allora spostiamo il tema su un altro problema io spero che arrivi questa generazione di cui stiamo parlando a fare quelle scelte coraggiose che serviranno per la scuola futura io in questi anni i ministri dell'istruzione li ho incontrati tutti purtroppo è gestione del potere non ho visto il coraggio di una discontinuità che avrebbe comportato sicuramente un'impopolarità politica ma nessuno vuole perdere voti e quindi siccome quello che bisogna ottenere è subito il consenso andiamo avanti così chi paga le conseguenze lo stiamo vedendo insomma sotto gli occhi di tutti tranne poi preoccuparci cioè preoccuparci molto di chi sta pagando di più no cioè gli adolescenti giovani no e urlarlo in televisione è come se preoccuparsi fosse un modo di non occuparsi cioè occuparsene prima per non occuparsene veramente ma in genere preoccuparsi è un modo per non occuparsi veramente delle cose io ti ringrazio io ti ringrazio tanto Alessandro spero che ai nostri ascoltatori sia stata utile questa questa conversazione ecco io Gabriele ringrazio te vorrevo chiudere su una cosa io uso parole molto forti che possono sembrare appunto non dare coraggio io sono pieno di coraggio proprio perché da vent'anni sto nella scuola e vedo che ci sono tutte le possibilità e siccome parliamo di creatività c'è sempre uno spazio creativo anche lì dove uno sembra chiuso imprigionato io ricordo sempre il diario di Etile su una ragazza ebrea morte in campo di concentramento che tiene questo diario meraviglioso che consiglio a tutti di leggere in cui a un certo punto lei dice dopo una giornata terribile in cui sa come andrà a finire tutto dice adesso vado a apparecchiare la tavola cioè il punto è questo c'è sempre una tavola da apparecchiare per qualcuno anche lì dove ti è stata tolta tutta la libertà quindi dico che lo spazio sta uno per uno a ciascuno di noi trovare quella creatività che a volte è semplicemente apparecchiare la tavola grazie a voi grazie a te grazie Alessandro per averlo precisato ma il fatto che sei pieno di coraggio l'avevamo visto dalla tua presenza grazie grazie a te a presto a presto a presto bene io ho visto che c'era un po' di movimento avevamo preparato dei video volevamo intervallare con video ma credo che abbiamo avuto dei problemi tecnici quindi ditemi se li abbiamo risolti se possiamo introdurre Marco Martinelli con il video che avevamo preparato o seppure andiamo direttamente vai cominciamo grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Credo che ci siamo incriccati definitivamente. Prima ci incriccavamo, fino a qui ci si incriccavamo più o meno, adesso ci siamo proprio incriccati definitivamente. Senti Marco, quindi io direi di rinunciare adesso, non cerchiamo di rimandarlo. Forse una piccola idea, chi non conosce il lavoro di Marco Martinelli può essersela fatta anche soltanto vedendo questo meraviglioso ammasso di corpi contro il muro del Castello Sforzesco di Milano, che adesso ci sembra Marco veramente una cosa pazzesca, c'ero anch'io tra quel pubblico lì quel giorno ed era veramente entusiasmante. E poi ad un certo punto tutta questa gente, tutte queste persone, tutti questi ragazzi che facevano il lavoro, che facevano... Vedi faccio fatica a dire spettacolo, che facevano il lavoro, abbiamo fatto un corteo fino a Piazza del Duomo, proprio come ai bei tempi quando eravamo giovani. Marco Martinelli è regista, uno dei più importanti registi italiani, drammaturgo, da sempre scrive i suoi testi insieme a Ermanna Montanari, che condivide l'esperienza, credo proprio dall'inizio, credo che sia stata un'invenzione comune, all'inizio il Teatro delle Albe, poi Ravenna Teatro, eccetera. Però oggi lui è qui per un aspetto particolare del suo lavoro che ho già un po' anticipato nel colloquio precedente. Da molto tempo Marco si occupa di non scuola, cioè ha fondato questa istituzione ormai, perché esiste da così tanto tempo che potremmo dire istituzione, che è la non scuola. E vorrei darti la parola a Marco perché ci spiegassi e ci raccontassi intanto come ti è venuto in mente, come vi è venuto in mente, come avete cominciato e come si sta sviluppando quest'idea della non scuola. Però prima vorrei ricordare il lavoro che stai facendo a Ravenna su Dante, visto che ci troviamo vicini al Dante Di. essendo di Ravenna, Marco, ma non soltanto perché è di Ravenna, ovviamente sta facendo un gran lavoro su Dante, coinvolgendo anche in questo caso centinaia di persone nell'avvicinamento e nel, posso dire, utilizzo di Dante. Questo lavoro è un lavoro non soltanto filologico, di ricerca, ma è proprio un lavoro fisico, è proprio un lavoro concreto. Quindi dalla non scuola a Dante. Ma intanto grazie Gabriele di questo invito, buongiorno a tutti. Premetto una cosa, fammi dire Gabriele, sono rimasto incantato da tutte le parole che ha detto Alessandro D'Avenia. E non so se forse è dovuto andare via, magari non ci sta ascoltando, però lo voglio veramente ringraziare. Perché ci sono dei giacimenti d'oro che ci formano. Cioè se io ritrovo nelle parole di Alessandro, che è di una generazione, o due addirittura dopo la mia, mi sembra giovanissimo, ritrovo il senso, le parole, ma le parole con senso, di tutto quello che abbiamo fatto noi in 30-40 anni di teatro, caro Gabriele, caro Roberto, che saluto, beh, questo ci dà coraggio, no? Ci dà forza. Perché i discorsi sulle generazioni sono sempre banali. Non che non abbiano alcuni fondamenti, ma in genere sono molto banali, no? Più o meno la generazione di Alessandro invece dovrebbe essere la generazione berlusconiana, no? Quella che è cresciuta con le televisioni, non quella che ha vissuto le lotte, tra virgolette, dei nostri anni. E invece poi ti ritrovi un discepolo di Socrate che ti parla in quel modo, mettendo insieme poi Socrate e Marx, perché con questo volto angelico e proprio davvero con questa bellezza di altri tempi, Alessandro dice ogni tanto delle cose davvero che vanno a minare i fondamenti di una società fondata sul denaro, fondata sulla violenza, fondata sul soppruso dell'altro, no? Anche quando questo soppruso appunto si manifesta con il ghigno della pubblicità, con i sorrisetti dei nostri media, no? Che invece nascondono una violenza forte. Cioè questa che Alessandro ha spiegato benissimo è che è proprio il togliere l'essere alla persona, no? Cioè ridurla a oggetto, ridurla o a vaso vuoto dell'istruzione o ancora peggio, insomma. Quindi davvero mi sembra che abbia detto tutto lui. Cosa devo dire, Gabriele? No, sono rimasto incantato, spiazzato e felice di sentire lui che poi in questo gioco di generazioni, come prima figura ha messo la sua nipotina di tre anni, la cui espressione era Nice, puro. Cioè che cos'è l'anima? L'anima che balla. Questo è Dioniso, no? È Dioniso, è Nice, è anche lì andiamo indietro. Cioè c'è un giacimento d'oro che ci sorregge anche a difenderci dal recente. Altra bellissima definizione che ha dato, no? Quindi nuovo è Dioniso, nuovo è il germoglio. Il recente è tutto quello invece per il quale ci costringono a vivere. Siamo costretti a sopravvivere. Detto questo, appena apriremo il teatro a Ravenna, sarete invitati subito con un vostro lavoro, Gabriele. Un lavoro dove ci sia in scena Alessandro, con le sue parole, e tu a curarne, mi immagino, l'allestimento, la regia. No, è molto di più l'ultimo che abbiamo fatto, Marco. I primi due spettacoli che abbiamo fatto con, dico spettacoli per semplicità, con Alessandro c'era lui in scena e poi abbiamo incominciato a mettergli a fianco gruppi di ragazzi e l'ultimo che abbiamo fatto, sull'appello, è invece lui in scena con i miei ragazzi della scuola per attori del Teatro Stabile di Torino con lui che fa la schiera insieme a loro, che si muove insieme a loro. A questo punto però, scusami, mi devi concedere un minuto perché Alessandro ha detto questa parola che è schiera, che è una pratica su cui io lavoro ormai da credo 30, quando non mi ricordo più, da 30 anni, è che è una pratica d'attenzione, cioè utilizzo la schiera con gli studenti, con i ragazzi della scuola per attori del Teatro Stabile di Torino, ma anche in tutte le altre situazioni, perché è nata come esercizio per il teatro, per l'allenamento degli attori, ma con il tempo mi sono reso conto, perfezionandola, diventa stormo, diventa banco, diventa branco la schiera, con il tempo mi sono reso conto che questa era una pratica proprio che allenava all'attenzione, all'ascolto degli altri. Roberto Tarasco preferisce che si chiami respiro comune piuttosto che schiera, però schiera è più corto e poi si chiama così, quindi va così, però è davvero essere presenti a se stessi, agli altri, al tempo e allo spazio. E credo che, avendoti visto lavorare con i ragazzi, beh, insomma, è quello che tu fai, cioè riesci a sprigionare quello che diceva quello che diceva Alessandro D'Avenia, ecco. Dicci come fai. Ma, no, ma è quello, è quello. Poi il respiro comune è il segreto della schiera, no? Schiera ha veramente la bellezza invece di una parola lampo, e sono quelle parole che, anche se non sai ancora bene come è fatta, come funziona, ma già ti parla, no? Cioè ti prende. E poi, no, allora, non scuola. Chiariamo una cosa, che quando l'abbiamo chiamata così, non scuola, proprio all'inizio degli anni 90, perché volevamo definire quello che stavamo facendo, che era sì un laboratorio, ma sentivamo che non era proprio un laboratorio come tanti laboratori che avevamo visto in giro, ai quali avevamo partecipato. E allora ci siamo detti, ma noi non stiamo facendo una scuola di teatro, è questo. Intendendo la scuola di teatro, cioè non siamo qui per formare dei giovani attori, ai 14-15 anni, siamo qui per liberare in loro il Dioniso, liberare la potenza del teatro, la seggeria del teatro. quando Benjamin diceva non spegniamo la selvatichezza nei nostri bambini. Il teatro proletario dei bambini, di Benjamin, con Asia Lachis, anche lì, ormai un secolo fa, e quanto era, era invece già, aveva capito tutto, c'era dentro la schiera, il respiro comune, l'ascolto, l'attenzione, non spegniamo la selvaggeria. E poi questa selvaggeria, lavoriamoci sopra, come diceva prima Alessandro, rispetto a Socrate. E poi bisogna lavorarci sopra. Ma se tu tieni viva, prima di tutto, questa selvaggeria, i ragazzi, dopo ci stanno a lavorare. Non è che non hanno voglia di lavorare. Anche queste le grandi balle raccontate dai sociologi, dai sapientoni. Avevi ragione, Gabriele, quando dicevi prima parlano adesso di una generazione perduta, ma sono trent'anni che io sento parlare di generazioni perdute, che gli adolescenti sono gli sdraiati, sono la generazione X, quella che è persa davanti al computer. Io sono trent'anni che lavorando con gli adolescenti a scuola, quando gli accenni a questa cosa, giustamente loro dicono ma come? Ma sarete morti voi? Noi siamo qui che stiamo cercando invece confusamente, talvolta anche nella disperazione, nell'ansia, è vero, ma sono creature come da millenni le creature nascono e cercano se stesse in questa condizione di questa nostra società. Allora, come si fa? ma l'hai detto tu, l'ha detto Alessandro, è davvero l'ascolto dell'altro, è l'arte più all'avanguardia di tutte, è quella davvero che anche le cosiddette arti recenti, perché quanti artisti, Gabriele, abbiamo ascoltato in questi trenta-quarant'anni, che ci venivano a dire o dei critici che dicevano di questi artisti questi sono il vero nuovo, e magari ci sono solo due parolette, una posa del nuovo. Camus diceva di Byron, un giudizio terribile, però che uno può anche non condividere su Byron, io lo condivido abbastanza, ma diceva è il sembrare della rivolta, no? Cioè quante volte il sembrare dell'intelligenza, il sembrare della rivolta, il sembrare della rivoluzione sono pose, com'è che scartiamo questo stare in posa? Appunto accettando l'essere dell'altro, guardando alla creatura che mi sta davanti come al mistero che mi rivela, perché mi specchia e viceversa, no? Quindi anche noi la prima cosa che facciamo nella non scuola è togliere i banchi, ma questo da teatranti lo sappiamo, beh, per forza, voglio dire, c'è rispetto alla scuola di Alessandro, è chiaro che il teatro è già immediatamente in medias res, è già con le cose, con i corpi, perché sì, puoi fare un primo incontro dove spieghi qualcosa, ancora si sta col banco, ma immediatamente lo devi buttare via, insomma, no? Come un impedimento a quella bellezza che è il corpo. E tra l'altro, perché la non scuola è anche il non X-factor, è anche il non amici, cioè, è tutto quello che invece è la competitività sfrenata, la competizione sfrenata, che induce l'ansia, perché io non sono all'altezza, non sono bravo e bello come quello là, no? Cioè, e quindi sentire che invece ogni creatura di Onesuro, alta, piccola, grossa, magra, col naso lungo, col naso piccolo, cioè, ma questo è chiaro che libera, no? Libera perché uno sente che può non avere paura anche del proprio corpo stesso, che invece è continuamente giudicato. Noi siamo completamente giudicati, i nostri piccoli sono completamente giudicati. Questa cosa del giudizio è terribile. San Francesco diceva senza limite e senza giudizio, questo è l'amore, senza limite, quindi c'è c'è Dioniso, una sorta di sfrenatezza che non arriva mai a opprimere l'altro però, quindi sa mantenere il proprio limite e senza giudizio, ma io sono libero nel momento in cui non vengo giudicato, no? Ma nel momento in cui posso cantare la mia canzone e la nostra scuola è fatta molto del canto, togliere i banchi, metterci in cerchio e il primo, il mio esercizio, ecco, la mia schiera per dirti, Gabriele, è invece mettere in cerchio e io mi metto al centro all'inizio i primi giorni perché poi invece farò andare gli altri ragazzi ognuno dopo l'altro al centro e inizio con uno, ma tu lo sai perché ci abbiamo lavorato, inizio con un'ottava del boiardo dell'Orlando innamorato, tutte le cose sotto della luna, comincio a cantare questa, all'inizio i ragazzi rimangono perché la canto all'antica maniera come si cantava sull'appennino per secoli ed è un italiano del Quattrocento che parla di guerra, di amore e poi invece trasformando questo semplice canto antico in un rap e la cosa viene naturale perché quella metrica del Quattrocento era comunque un gioco di ritmi, un gioco di assonanze, lo puoi veramente, naturalmente, non è una trovata e si trasforma naturalmente in un rap e da lì tutto si scioglie e la selvatichezza ci salva in un qualche modo. Senti, io quando adesso parlo delle poche immagini che abbiamo potuto vedere prima, no? Tu hai lavorato con... quanti erano a Milano i ragazzi? Erano 200. Erano 200 e raccoglievano un po' tutti i ragazzi. Coglievano da tutta Italia, sì. Da tutti i pochi abbiamo seminato un po' in tutta Italia ma anche nel mondo perché c'erano dal Belgio, dal Brasile, dal Senegal, quindi anche dal mondo. Sì, e quello che mi particolarmente colpiva anche personalmente è che questa azione mi ha riportato alla memoria qualche cosa a cui avevo assistito veramente da adolescente io. Cioè, quando io avevo 14 anni come i ragazzi che c'erano lì e mi ci sono molto immedesimato perché in quel tempo, ormai in quel tempo, c'era a Torino Giuliano Scabia che faceva il teatro nello spazio degli scontri che è un'esperienza secondo me importante, in qualche modo fondante, no? Ovviamente era un'esperienza che si faceva nello stesso tempo in cui lavorava il Living Theater, in cui lavorava Jersi Grotowski, in cui lavoravano alcuni dei grandi maestri del Novecento, no? E quel teatro lì veniva a cercare me che ero un tamarro di periferia perché io vivevo a Settimo Torinese, no? E il teatro nello spazio degli scontri, il libro, perché poi Giuliano Scabia ha scritto un libro molto importante che si intitola Il teatro nello spazio degli scontri, arriva fino alle vallette, arriva fino a Corso Taranto, ora per chi non conosce Torino dirò che le vallette Corso Taranto sono l'estrema periferia nord di Torino, beh, Settimo Torinese e oltre l'estrema periferia nord, quindi era veramente un posto difficile, un posto difficile da vivere quando ero ragazzino, no? E arrivava questo teatro che in qualche modo veniva a recuperarmi, dico recuperarmi, ma recuperarci, cioè recuperare tutte le persone, tutti quei ragazzi che avevano la disponibilità, no? e tutte queste esperienze le ho ritrovate quel giorno, mi sono ritrovato lì dall'altra parte, dalla parte di chi guardava, ma in fondo ero un po' con i tuoi ragazzi che stavano agendo e infatti poi quando abbiamo fatto il corteo mi sono messo subito in azione anch'io, non è che mi sono tirato indietro perché era irresistibile. Ecco, allora in quegli anni, sto parlando della fine degli anni 60, sto parlando del 69, 70, 71, in quegli anni lì, è come se ci fosse stata una apertura, come se stessimo vedendo un mondo che si apriva e l'insegnamento dei grandi maestri del Novecento, del resto, dei maestri del teatro va proprio in questa direzione, cioè nel teatro tutti quanti da Stanislavski passando per Merkel, cioè va nella direzione del teatro oltre lo spettacolo, se posso dire così, poi tu mi dirai se sei d'accordo o non sei d'accordo, no? E quindi c'è stata una progressione di applicazione, di studio, di concentrazione sul teatro oltre lo spettacolo fino agli anni 70, no? E poi dove è finito tutto quello? E' certo che è finito nel tuo lavoro, è finito nel lavoro anche di Chiara Guidi che ho visto che è collegata con noi e che saluto, poi dopo parleremo con Chiara è finito nel lavoro di tanti, ci mancherebbe, ovvio, però è come se le istituzioni fossero rimaste impermeabili a tutto questo che è successo, è un po' il discorso che faceva prima Alessandro sulla scuola, no? Cioè succedono cose, il mondo cambia e facciamo, le istituzioni soprattutto fanno fatica ad accogliere i cambiamenti e quindi l'impressione è che a livello generale tutto rimanga immobile. Purtroppo è così, lo sappiamo, no? Sono ormai 40 anni che io, te, Chiara, che saluto, che ci sta ascoltando, lavoriamo e ciao Chiara e lo sappiamo noi siamo ancora qui tra l'altro. Voglio dire, è già un miracolo questo. Scusa, noi siamo, e non siamo solo noi tre che ci stiamo parlando, ci sono Punzo, c'è tanti altri amici, no? Che continuano a combattere in questo modo e siamo tanti se ci pensi. Cioè, se io, veramente, le esperienze con cui ho sintonia in Italia, guarda che è un bell'arcipelago. Se rifacessimo quel viaggio in Italia che tu e qualcun altro aveva organizzato parecchie anni fa, cos'era, primi anni? Era proprio un'invenzione di Tarasco, sì. Allora, lode a Tarasco perché Viaggio in Italia è una delle cose più belle, mitiche, che, che, perché dava l'idea davvero invece di un arcipelago di realtà, magari sconosciute ai grandi media, sconosciute anche ai grandi teatri, no? Ai grandi teatri stabili che oggi sono i nazionali, ma cambiano le parolette, ma più o meno la struttura è quella. Queste strutture, l'ossatura istituzionale del teatro è rimasta così, è rimasta impermeabile. Poi, per farsi bella, chiama magari qualche artista recente o d'avanguardia per fargli fare lo spettacolo, va bene, benissimo, però quello che potevamo fare, quello che si poteva fare non è stato fatto, cioè cambiare veramente l'anima del teatro italiano. Però noi siamo nelle nostre fortezze catare, potremmo dire, no? Sulle montagne. Comunque teniamo, e non è semplicemente che resistiamo, noi teniamo vive delle fiamme. Io non ho mai visto il lavoro di Scabia in quegli anni, pensa, ma quel lavoro si vede che mi ha lavorato dentro da un'altra parte, così come tutto il lavoro dei maestri del Novecento, i maestri e le maestre del secolo scorso del teatro. E, guarda, Gabriele, ne abbiamo anche chiacchierato certe volte io e te, per me rimane fondamentale l'opera. Sono d'accordo nel non usare la parola spettacolo, cioè certe volte mi scappa perché è nella quotidianità, no? Siamo parlati. Ma lo spettacolo è questa società che dà spettacolo continuamente e con la quale il nostro teatro non può confondersi perché è un'altra la sua differenza. A me piace mantenere, a me, Ermanna, il discorso dell'opera, invece, perché credo che ancora, invece, si possa creare un lavoro senza chiamare a raccolta tutti, con un attore anche solo in scena, Ermanna è di una forza straordinaria, per me lavorare anche solo con lei è come lavorare con i duecento, faccio la stessa fatica e faccio lo stesso, e ho lo stesso entusiasmo, no? Cioè, forse perché Ermanna è più che un attore, no? E questi sono più che attori, cioè, andiamo al di fuori del compitino, del teatro di prosa, anche inteso come prendo un testo, quelle battute, è come mettere i banchi tante volte il teatro di prosa, no? Cioè, sia lo spettatore che chi fa, ognuno è rigido, chiuso lì nel suo banco, e questo non è vivo, non è vitale, non è, però credo che ancora ci sia invece la possibilità dell'opera, cioè, se vedo un lavoro di Chiara Guidi, se vedo un lavoro di altri amici di Roberto Latini, per dire, no? Un grandissimo attore, regista di oggi. Io sento che lì, invece, il teatro riesce ancora a parlare attraverso, tra l'altro, la parola opera è un plurale neutro, non è un singolare femminile, è l'intreccio degli opus diversi, cioè dei diversi linguaggi. L'opera è viva perché è un centro di alchimia del mondo, di diversi linguaggi, no? Quando nasce nel 600, intrecciando la parola, la musica, anche lì, col bisogno di ritrovare Dioniso, di ritrovare una vitalità che mi tocca, che mi turba, che non mi lascia annoiato e freddo nella mia poltrona del Carignano, appunto. Ma quella poltrona si smuove nel momento in cui sul palco c'è qualche d'uno che diventa medium di quella forza, di quella vitalità. In un certo senso il bisogno nostro anche di allargarci ai tanti, ai molti, di trovare i 200 del Castello Sforzesco oppure due anni fa io sono stato più volte in Kenya, a Nairobi, in uno slam di Kibera, il mio bisogno di avere così tanta vita che mi travolga e perché poi quando io torno a lavorare solo con Ermanno e anche i miei attori io quella vita la utilizzo per usare una parola che dicevi tu prima, cioè quella vita mi nutre, fa sì che la mia piccola opera qualche cosa possa dire perché si è veramente nutrita come uno stanco vecchio vampiro si è nutrita del sangue fresco della realtà. Le cose che dici mi suggeriscono un sacco di domande faccio fatica a sceglierne una perché ne avrei parecchie allora vorrei andare un po' in questa direzione con te sapere che cosa hai detto che cosa ne pensi hai detto una parola che è questa società dello spettacolo tutto è diventato spettacolo ne parlavamo anche prima appunto con Alessandro e in questa società in cui tutto diventa diventa spettacolo siamo continuamente oberati dalle immagini dalle forme noi abbiamo strumenti oggi che ci permettono di accedere continuamente a immagini a forme io apro YouTube apro Pinterest apro un qualunque programmino una qualunque piattaforma che tutti i ragazzi anche per esempio visto che abbiamo un po' concentrato con Alessandro il discorso sugli adolescenti aprono una qualunque applicazione che hanno sul loro telefonino e vengono travolti dalle forme come tutti noi del resto in questa pandemia abbiamo avuto Netflix abbiamo avuto tutta una serie di strumenti che ci hanno intrattenuto che ci hanno permesso che ci hanno reso un po' meno gravosa l'isolamento ecco in questa in questa situazione in cui l'intrattenimento lo spettacolo è la funzione dell'intrattenimento la funzione dello spettacolo è esperita molto bene da tutti questi strumenti tecnologici che possediamo ecco il teatro può affrancarsi dalla funzione dell'intrattenimento dalla funzione della funzione dello spettacolo e quindi le strade che tu indicavi prima sono degli esempi possibili cioè andare al di là ecco e tutta un po' la tua storia è fatta di questo a cominciare appunto dai tuoi viaggi africani dal tuo lavoro a Scampia no? poi appunto la non scuola a Ravenna ecco è un po' questo no? cioè un po' che c'è qualche cosa che c'è qualche cosa oltre alla produzione di forme mi sembra certo sì e che il teatro noi teatranti credo che su questo abbiamo molto da dire no? perché il lavoro che è stato fatto appunto dei maestri del novecento oltre oltre lo spettacolo oltre l'intrattenimento beh sono già tradizione no? sì sì io credo che sia ancora possibile Gabriele però qual è il punto? il punto è che prima hai detto di Scabbia no? penso anche ad altri due figure che per noi sono state fondamentali che sono Carmelo Bene e Leo De Berardinis allora che cosa facevano queste persone? questi questi era la loro vita che loro bruciavano sul palcoscenico cioè c'è qualche cosa di irriducibilmente monacale mistico che ci salva se noi non è mai non può essere solo un compito essere attori essere vuol dire veramente intrecciare la vita e il palcoscenico in una maniera così profonda come un monaco ora et labora non ci si scappa ma questo ripeto può essere appunto Carmelo perché perché ancora riesce ancora a toccarci addirittura attraverso il video per fortuna no? perché ancora credo riesce a parlarci ma perché insieme era Totò e la Duse era un mistico e un ribelle era uno che sghignazzava della morte e ne sentiva la totale tragicità cioè se tu non non sei attraversato da questo mistero terrificante che è la vita e la morte in vita perché non le puoi separare come fai a far teatro? e questo è Dioniso se no sei un impiegato fai il tuo lavoro ti dicono impara le tot battute di Shakespeare o di Cecco vai e le fai ma chi può smuovere questo? è giusto che crepi del tutto quel teatro lì cioè crepino gli artisti diceva un altro dionisiaco come Tadeusz Cantor nel suo ultimo lavoro devono crepare se siamo quella robetta lì YouTube e tutto il resto ci hanno già battuto centomila volte allora l'unica nostra possibilità io vedo queste due possibilità di scarto da una parte è nell'orizzonte l'orizzonte è l'Africa è Scampia è tutto ciò che no mi sta è il braccio orizzontale della croce cioè è proprio sono tutti gli altri io devo devo andare verso questi altri per salvarmi per salvare me stesso ma poi c'è anche il braccio verticale che è quello dell'immersione in me nella mia anima nell'anima che balla per ritrovare la battuta della filosofa della bambina di tre anni che è proprio Heidegger Beatrice Beatrice si chiama si chiama Beatrice allora è la nostra Beatrice di oggi questa bambina che dice così ma questo è tutto è tutto lì l'essere è quello che balla e che soffre perché non balla solamente perché a tre anni balli a cinque continui a ballare a quindici cominci a perdere dei passi e più vai avanti e rischi di non di non avere più quel segreto della danza del bambino e cominci a soffrire allora che cos'è un artista vero un attore un teatrante quel po' che è questa povera creatura è invece mettere insieme la danza con la scoperta della sofferenza dell'ansia del limite ma continuare a tenerle in un cortocircuito furibondo che fa sì che quando si crea un teatro un evento teatrale si chiama a questo tipo di festa lo spettatore che è gioia ma è anche in profondità se no sono le finte feste della televisione sono l'eredità della televisione ecco la nostra eredità è più profonda e intreccia queste polarità e torniamo al discorso con cui ai discorsi con cui avevamo iniziato grazie appunto a Beatrice alla filosofa Beatrice all'anima che balla che è comunque essere presenti esserci no che poi esserci non in termini di apparire ma proprio in termini di questa è la differenza no perché spesso siamo tentati invece di non esserci anzi io spesso diciamo non esserci ma nel senso di apparire no mentre poi è proprio un'altra cosa è davvero l'anima che balla io Marco se vuoi concludere perché abbiamo finito il tempo l'hai detto se no ti ringrazierei molto eh e solo questo Gabriele cioè l'importante anche rispetto a tutta questa pandemia è comprendere che le difficoltà vere e profonde tu ne hai detto adesso una no cioè essere e apparire non c'entra con questa pandemia questa pandemia semplicemente come dire lo rende più acuto il problema ma esiste da parecchi decenni e continuerà anche dopo quindi attrezziamoci non tanto per uscirne perché tanto noi usciremo da questa pandemia quando il buon Dio vorrà eh non abbiamo visto che vaccino non vaccino la tecnologia è veramente alla frutta ne usciremo perché siamo usciti dalle pestilenze già nei millenni nei secoli precedenti ma la cosa fondamentale è ricordarci che appena ne usciremo tutti i nodi di cui abbiamo parlato stamattina sono lì saranno lì e e toccherà a noi affrontarli con con coraggio grazie grazie tantissimo che ci aspettano al marco grazie Marco grazie mille a presto speriamo vivo a presto perché è già un po' che abbiamo occasione per interposto mezzo tecnologico eccetera no ma l'abbiamo detto a Ravenna appena il teatro a Ravenna appena riaprono il teatro non c'è dubbio grazie Marco grazie ciao grazie io a questo punto sono le 10 le 11 e 26 intanto vorrei salutare Chiara Guidi ufficialmente prima l'abbiamo fatto ufficiosamente ma siamo molto felici che Chiara Guidi sia oggi con noi perché è portatrice di un'esperienza straordinaria di cui parleremo e che ci racconterà chiederei soltanto se farei 5-6 minuti di intervallo permettendo anche a chi ci sta ascoltando di prendere un caffè Francesco D'Angella se sei d'accordo facciamo qualche minuto di intervallo e riprendiamo tra 5-6 minuti va bene ok bene grazie a tra poco grazie 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 a tutti Grazie a tutti. 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 in un luogo. Grazie a tutti. 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 e montaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.